Ospite di La Sette, il segretario della Lega Matteo Salvini, l'altra sera ha detto un po' di falsità, stupidaggini, bugie sul coronavirus e come si diffonde il contagio. Soprattutto due, una quando ha messo in relazione a confronto il Green Pass e il tampone che non possono essere messi a confronto. Sono uno la conseguenza dell'altro, non si possono paragonare quanto è efficacia nel limitare o nel circoscrivere i contagi. La più grossa è quella sullo sviluppo delle varianti del coronavirus, quando ha riportato una delle più grandi bugie che i Novavax continuano a ripetere, cioè quella secondo cui le varianti del coronavirus sarebbero provocate dal vaccino. È stato smentito da più parti, era già stata smentita questa cosa in passato, la ribadiamo, le varianti non vengono provocate dal vaccino. Le principali varianti, la Alpha, quella inglese, la Delta, quella emersa in India, sono emerse prima, molto prima, dell'inizio delle vaccinazioni nei paesi in cui si sono sviluppate. Le varianti si sviluppano casualmente man mano che il virus circola. Più il virus circola, più è possibile che si creino delle varianti. Più ci vacciniamo, meno il virus circola, meno si creano le varianti. È esattamente l'opposto di quello che ha raccontato Salvini. Quindi non è così. Ah no?